Buongiorno, siamo qui con Michela Gariboldi, CEO e socia di Open Source Management. Michela, che cosa ci racconti di OSM? Allora, Open Source Management è una società di formazione, consulenza e strategie aziendali, opera su tutto il territorio nazionale, nasce da due soci principali, Paolo Ruggeri e Andrea Condello, che più di 30 anni fa hanno avuto la brillante idea di lavorare in questo campo, lavorando e specializzandosi sulle risorse umane. OSM oggi è una realtà con più di 500 collaboratori sul territorio nazionale e da OSM nasce appunto OSM Real Estate, che è una divisione che insieme a Wiston Sinibaldi e altri miei collaboratori abbiamo deciso di espandere per aiutare le agenzie immobiliari. Wiston è un portavoce concreto, devo dire, uno che ha fatto un percorso e ha raggiunto importanti risultati. Assolutamente, lui è diventato cliente sette anni fa, aveva due agenzie con un fratturato di circa 400 mila euro annui, oggi supera i 6 milioni annui e ha più di 10 agenzie sul territorio, soprattutto nel Garda, ma sta andando anche in territori fuori dal Garda, perché comunque la sua grande capacità di gestire le agenzie l'ha portato a individuare dei territori preziosi, chiamiamoli così, e quindi il suo vantaggio è stato che anche attraverso di noi ha fatto studiare tutti i suoi manager principali e ha cascato le persone all'interno. Quindi lui è un esempio e grazie a questa grande sua capacità e la sua esperienza ha contribuito anche all'espansione dell'OSM Real Estate. Anche perché essere agente immobiliare non è automaticamente essere anche imprenditori, formatori, selezionatori, personale, quindi credo che sia un lavoro da imparare, giusto? Assolutamente, infatti l'agente immobiliare solitamente è prima di tutto un venditore e non sempre conosce le linee guida per farle espandere all'agenzia, cioè si crede che semplicemente inserendo persone prima o poi si cresca, ma non è proprio così che funziona. Bisogna insomma avere un sistema di crescita per le persone, bisogna trovare le persone giuste, sappiamo che questa è una nota dolente nel settore immobiliare e quindi appunto proprio perché trovare le persone non è facile bisogna utilizzare dei sistemi diversi, infatti oggi parleremo anche sul palco di HR Marketing che è una cosa ovviamente che fa attirare in agenzia candidati di una qualità più elevata, insomma. Ci sono delle strategie da imparare, non basta mettere un annuncio, cercare un agente immobiliare e promettere altre provvigioni. Non funziona più, siamo in un mondo dove ormai anche diciamo l'aspetto digitale di comunicazione che tu rappresenti fa un'enorme differenza, se ovviamente è suffragato dal fatto che sotto realmente queste cose ci siano, non puoi vendere fumo insomma. Quindi oggettivamente quali sono i vantaggi di chi si rivolge alla vostra struttura per poter fare questo percorso? Diamolo anche terra a terra perché poi la nostra patria è quelli agenti immobiliari che difficilmente riescono a comprendere tutti i vari passaggi che ci sono che sono complessi. Ok, beh sicuramente in primo luogo è crescere, nei numeri non solo di fatturato ma anche di utili perché ottimizzando e imparando a gestire a livello managerale delle cose ovviamente il risultato finale di un bilancio è un pochino diverso rispetto alla solita compravendita perché mano a mano che si cresce a volte i numeri magari il raddoppio è infatturato, cresce infatturato ma non tutti crescono dal punto di vista proprio del guadagno che rimane. Gli altri vantaggi sono il fatto di avere una comunità di altri agenti immobiliari che la pensano e la vedono nello stesso modo, che condividono certi valori, uno di questi è l'etica che giustamente nel settore immobiliare a volte in alcuni contesti è stato un po' traballante invece persone che vogliono eticamente espandere questo mercato riescono a farlo perché credono veramente di dare un servizio importante ai consumatori e vantaggio di avere una business school a cui partecipare dove partecipano sicuramente diverse agenzie immobiliari ma oltre a collaborare con altre agenzie immobiliari durante questi percorsi hanno l'opportunità di interagire anche con imprenditori italiani dove a volte ottengono degli speech per poter passare queste informazioni che hanno fatto crescere loro e quindi questa scuola diventa un volano per la crescita dell'agenzia perché quando peschi sempre dallo stesso settore diciamo le risposte che ti dai sono sempre un po' le stesse invece se cominci a vedere come ha fatto una persona che è cresciuta tanto magari in un settore diverso riesci a come dire cogliere quegli spunti e vantaggi che nel tuo settore a volte non vedi perché sei sempre no farà occhi limitato un po' al tuo ambito poi c'è un mantra per gli agenti immobiliari che abbiamo sempre fatto così bravissimo Purtroppo sì un po' è questa parte che hai detto tu un po' il fatto che tutti sono un po' no devono tenere il loro orticello no e quindi fanno fatica a volte a creare vere relazioni con altri si parla tanto di sinergie appunto ma poi nel concreto non tutti lo sanno fare perché poi l'ho preso io quell'incarico era mio l'hai visto tu non ho visto io non cioè sai pensare solo così ovviamente si rimane piccoli e invece tante volte le alleanze magari apparentemente perdi un pochino nell'immediato ma poi guadagni nel lungo periodo un altro vantaggio dell'avere a che fare con noi è il fatto di avere qualcuno che ti segue in modo costante e che a volte anche solo con una telefonata magari sblocca la giornata o ti fa capire come gestire meglio un collaboratore c'è una grande formazione attenzione verso le persone dove magari spesso nelle agenzie questa cosa non viene considerata come la cosa più importante anzi a volte il collaboratore viene considerato come passami il termine vabbè se non vai bene tu arriva l'altro un po' carne da macello in alcune agenzie purtroppo succede anche questo invece il valore di una persona se cresciuta bene e valorizzata può dare tanto contributo all'agenzia e può veramente fare poi la differenza perché poi la gente è uno e quando c'è i 40 anni va ancora bene quando non è i 50 va ancora bene ma quando sei a 60 anni sei ancora lì tu a fare le cose di base eccetera c'è qualcosa che giustamente va modificato e bisogna imparare anche a far crescere le persone per poter trasferire la competenza e fare in modo che questa possa essere sviluppata da altri interesse comune tu hai detto la cosa giusta però a volte l'agente immobiliare cosa pensa se questo cresce poi va via e si apre la sua agenzia però se ti tieni le ciofeche scusami il termine non cresce nessuno e ti rimangono tutti nel senso allora meglio avere persone a cui fare una prospettiva magari quindi immaginarti di dire ok siamo cresciuti insieme quindi ti do un'opportunità che potrebbe essere appunto apriamola insieme o facciamo una società insieme cioè dobbiamo guardare oltre non possiamo pensare solamente al nostro piccolo ecco questo un po' il discorso nel vostro percorso insegnate anche a costruire dei progetti con i collaboratori non solo a fare selezione ma fare in modo che possa essere un team in crescita consolidata assolutamente assolutamente ci deve essere un piano di carriera ci deve essere qualcosa che giustamente uno quando è cresciuto se è bravo anche lui vuole averne un vantaggio è normale non può essere che rimane insomma il tuo venditore per sempre e basta diciamo che è una cosa abbastanza normale in qualsiasi abito impreditoriale quali sono le criticità che avete riscontrato nell'ambito immobiliare invece dove c'è questa cultura del singolo professionista che eventualmente si circonda di una segretaria di un funzionario però cerca di rimanere sempre nel piccolo perché è più facile da gestire le criticità sono un po' quelle che abbiamo detto poco fa tipo sicuramente l'etica in questo settore devi essere il più possibile una persona corretta perché io se parlo con clienti a volte si ritrovano con situazioni che sono un pochino borderline una seconda cosa è il fatto di non saper far crescere le persone e quindi pensare solamente al tuo obiettivo al tuo guadagno e non pensare oltre una terza cosa è non sapere come espandere un'agenzia e cominciare a pensarlo come una vera e propria azienda quindi se uniamo il fatto che non sempre so davvero sono formato per far crescere le persone e non sempre vedo al di là dell'agenzia perché anche quando uno non cambia la mentalità quindi non fa il passaggio da gente e comincia a pensare più da imprenditore che cosa succede che una volta che arriva una persona magari ti va anche bene arriva due va anche bene quando cominciano a essere di più le cose cominciano a schiccolare perché non hai più dopo quella prima fase di espansione non hai più la prospettiva successiva adesso cosa faccio e lì scatta un po' la paura interna di dire però qua magari poi questi scappano poi ecco quindi queste cose qua giustamente sono poi un'altra cosa importante critica che ho evidenziato in questo mercato è che tutti tutti vogliono diventare più bravi ad acquisire vogliono che arrivi giù la madonna e a un certo punto le case arrivino da sole ma il fatto che una persona un cliente ti dia l'opportunità di vendere la sua casa è perché dall'altra parte ci sono tutta una serie di punti dove il cliente si sente più a suo agio più sicuro più no e quindi questo può essere a quanto sei conosciuto sul territorio cioè chi ti conosce se non sei conosciuto e non hai una fama importante è chiaro che le persone fanno fatica ad affidarti a te la casa perché l'obiettivo del cliente è che la casa si venda velocemente al prezzo che vuole lui no quindi la seconda cosa è io vedo tanti che fanno un approccio classico no martello 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 e poi magari hanno opportunità quotidiane e non le colgono io ho provato a essere a pranzo con Wilson Sinibaldi passa una signora che è inciampa vicino a noi al tavolo dopo cinque minuti si era fatto dire che c'era un immobile da vendere in una zona sul lago ora questa cos'è? è la grande capacità di comunicazione, di approccio non è solamente come dire mettersi lì, telefonate, suonare campanelli eccetera avere un sistema reale nell'acquisizione lo puoi creare ma ci devono essere anche questi presupposti questo è il mio punto di vista perché poi il nostro lavoro è quello di creare delle relazioni che poi possono funzionare nel tempo è quello che dà credibilità a un'agenzia, a una struttura, a un professionista affinché possa attirare nuovi clienti per credibilità referenzativa, non dico passaparola perché sarebbe vuol dire aspettare che arriva il cliente da solo però la credibilità va costruita giorno per giorno quindi la vostra funzione è quella di creare questo percorso assolutamente anche a livello di comunicazione non solo e a livello proprio di come lavori sulla tua empatia io sento parlare tutti di empatia ma nella verità pochissimi la sanno usare davvero la mente io anche per prima ce l'ho da lavorare però è una cosa che non finisce mai perché riuscire ad entrare in sintonia col maggior numero di persone che tu incontri è comunque un lavoro, è una skill che comunque si acquisisce veramente lavorando su noi stessi tanto comunque quella che mi ha raccontato è vero perché capisci che sono quelle le opportunità nella quotidianità che vanno colte in maniera corretta, elegante non puoi ovviamente andare diretto al pubblico ma devi trovare il modo per poter essere interessante e quindi riuscire a portare a casa un risultato che possa essere anche una semplice notizia da sviluppare una referenzetta in più dove un bigliettino da visita può servire per un prossimo futuro un riscontro inaspettato senti ma qual è il profilo quindi di cliente tipo che oggi OSM attira quindi sono quelli che un po' lo sbando oppure sono quelli che hanno già magari una struttura organizzata e fanno difficoltà a gestirla guarda ci sono entrambe le cose nel senso ci sono sia gli agenti anche quelli più piccolini con una struttura più piccolina e anche agenzie molto più grosse o con più agenzie sul territorio ma l'unica cosa che le accomuna è la vera voglia di crescere quindi se un agente vuole sapere come migliorare il suo lavoro come migliorare la sua agenzia è un nostro cliente e se crede in determinati valori perché poi alla fine ho visto persone anche piccoline che però avevano dentro in potenziale tante cose da dare al mercato tante cose da fare ma magari non ha mai trovato il filone giusto per esternare questa cosa quindi la gente che vuole crescere che vuole crescere e che vuole dare essere diciamo un punto di riferimento diverso per il mercato con una professionalità con un sistema che funziona ecco voi siete presenti in tutta Italia o soltanto in alcune località dove sono le vostre sedi giusto per capire allora oggi USM è su tutto il territorio nazionale la parte della real estate abbiamo degli eventi che vengono fatti principalmente al nord ma serviamo anche dalla Sicilia a Trieste insomma ecco come possono entrare in contatto con voi potenziali interessati tramite un contatto diretto oppure fate delle iniziative online, offline giusto per capire un po' meglio qual è il meccanismo che potrebbe interessare questi colleghi allora solitamente organizziamo anche degli eventi gratuiti l'anno scorso ne abbiamo fatti uno al mese dove partecipano diversi agenti di diverse città e dove vengono trattati i temi più importanti quest'anno li ripeteremo faremo anche degli eventi più specifici magari anche di una giornata intera non solo degli eventi magari più brevi e attraverso queste iniziative attraverso la comunicazione che abbiamo online quindi ci trovate sia sui social che attraverso il nostro sito www.smrealestate.it e così via c'è solo da approfondire quindi assolutamente hai già dato una panoramica abbastanza ampia bisogna però entrare nel mezzo bisogna prima di tutto forse mettersi in discussione e dire che cosa voglio fare dove voglio migliorare e questa è una strada quest'anno tra l'altro uscirà anche il libro mio di Winston dove sicuramente sarà un ulteriore aiuto un piccolo diciamo breviario che però puoi dare una grande mano su questi spunti che ti ho detto perfetto grazie Michela grazie a te Massimiliano grazie un piacere